Un minuto compatripeo dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, come di consueto ogni anno viene allestito dinanzi al santuario il presepe per raccontarvi quello che accadde il 14 dicembre 1921, abbiamo qui l'epistolario del numero 4, quello che raccoglie un po' tutta la corrispondenza di Padre Pio con i tanti sacerdoti che hanno incrociato la sua vita, figli spirituali, quello che voglio raccontarvi quest'oggi è una lettera in particolare, oggi Padre Pio scrive il 14 dicembre 1921 a Don Peppino Orlando, chi è Don Peppino? Orlando che nacque a Pietrelcino il 26 ottobre 1877 e il 17 maggio 1911 fu adottato dal Marchese Ferdinando di Girardi e dalla Marchesa Maria Emanuela Caracciolo, morì a Pago, Veiano, provincia di Benevento il 29 agosto 1958, lui collaborò con Padre Pio per le opere benefiche al quale fu molto affezionato il santo di Pietrelcino, come lo dimostra in un vero e proprio ciclo stilato, conservato proprio nell'archivio dei frati minori Cappuccini. Il carteggio che si ritrova e qui viene trascritto in questo epistolario mostra dalle lettere una vera e propria umanità e soprattutto una grande fratellanza e amicizia tra Padre Pio e Don Peppino in Orlando. 14 dicembre 1921, Padre Pio gli fa innanzitutto gli auguri per il Santo Natale, per le felicissime feste del Santo Natale, piene di perenne benessere e di eterna felicità. prego gradire questi auguri, scrive Padre Pio, che primo te li fò innanzi a Gesù e poi a mezzo di questa lettera. Qual era il motivo di questa lettera? Vengo a chiederti questo favore, scrive Padre Pio, e voglio che come sempre tu mi tenga contento. Tu ben sai che era il mio desiderio la compra di un sito per edificarvi di opere benefiche, di belle opere, scrive Padre Pio, e si trattava dell'ospedaletto di San Francesco che vide la sua nascita nel gennaio del 1925. Questo mio desiderio pare che sia stato ascoltato dal Signore, il terreno da comprare è pronto e bisogna far sverti a comprarlo, altrimenti diventerà una impossibilità in seguito. Mi sono state offerte una 15 mila lire a questo scopo, questa persona benefattrice non vuole che si sappia ad altra persona vivente questa sua opera di beneficenza e allora vuole che io trovi una persona di fiducia la quale deve comparire innanzi a tutti come quella che sborsa il denaro per si fatta compra. Ora che io ho pensato subito a te, scrive Padre Pio, tu sei la sola persona per me di fiducia e a te commetto questo affare e tu non devi negarti, scrive Padre Pio, il sacrificio che devi fare è che devi portarti qui appena sarà tutto pronto, avrei voluto dispensarti dal baggiare in questa rigida stagione, scrive Padre Pio, ma mio caro Peppino non posso, tu mi devi perdonare, perché Padre Pio sceglie Don Peppino Orlando e lui lo scrive proprio al termine di questa lettera, se ho scelto te per questo affare, l'ho fatto perché in te ho tutta la fiducia e perché non nascano degli imbrogli e anche perché tu sei una persona secretissima.